Guglielmo, 26 anni, brasiliano, a Lugano che fai? A Lugano sono studente di teologia e filosofia presso la facoltà di teologia di Lugano E fai parte di una comunità? Sì, sono membro della comunità cattolica Palavra Viva da 2010, quando sono adentrato alla comunità Sei venuto con un gruppo di giovani in Val di Blegno, alla Montanina, per vivere un weekend a tema L'affettività, la sessualità, l'amore in giro, perché? Allora, non posso fare una predica, una risposta un po' anche personale Ma sono venuto proprio con l'intuito di capire un po' meglio su questo tema che abrange anche la gioventù Ma in modo speciale proprio per capire davvero il rapporto tra la sessualità e l'affettività Sappiamo che sono doni divino, Dio ci ha voluto, ci ha dato questo per vivere Ma il perché che sono venuto qua è proprio per capire meglio di più questo dono E in queste giornate ho potuto capire meglio un po' che è proprio questo rapporto Che porta a noi che siamo giovani a vivere meglio proprio la nostra vita In tutto il senso, diciamo così, della vita Perché questo equilibrio ci porta a una serenità e anche a avere il controllo Per vivere bene la sessualità e l'affetto verso l'altro